Valeria Marini contro ieri un servizio andato in onda ieri sera mercoledì 21 maggio 2014 su Italia 1, il servizio del grandissimo Filippo Roma, il moralizzatore. La solidarietà che Valeria Marini si aspettava non è arrivata. La povera Valeria Marini attraverso un momento non facile della sua vita privata. La separazione dal fresco sposo Giovanni Cottone l'ha comprensibilmente segnata, soprattutto previa dell'accusa a mezzo stampa che le piovono addosso. Ormai l'ex marito l'avrebbe accusata di avere un altro, mentre lei avrebbe in mente di chiedere l'annullamento alla Sacra Rota. In seguita da paparazzi che l'hanno raggiunta anche, pensate, fino alle balneari, Valeria si è mostrata insofferente all'attenzione mediatica. Lo ha annunciato anche in un video postato sul profilo Instagram, dove le Iene di Italia 1 cercando di strappare qualche dichiarazione sulla sua separazione, commentandolo così, le Iene fanno gossip sulla mia scelta dolorosa, invece di dare rilievo alle problematiche serie e importanti che vanno denunciate. La Valerona nazionale si aspettava la solidarietà incondizionata dei suoi followers, ma non ci aveva visto giusto. Accanto ai pure molti messaggi di sostegno, molti altri l'hanno criticata, invitandola a tenere per sé la sua vita privata se non gradisce l'attenzione mediatica. Voi che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, cliccate mi piace al video, condividete il video e se vi va iscrivetevi al canale.